Si parla tanto di faccia nuova e se c'è una faccia nuova è proprio quella di Nannifrasca, anche se nonostante sia giovane, ha appena compiuto 28 anni e si presenta ovviamente candidato al Consiglio Comunale del Partito Democratico, comunque ha una lunga esperienza perché ci sono alle spalle ben 13 anni di militanza nel PD, perché scegliere un giovane comunque con l'esperienza? Sì, allora io dico in questi giorni di campagna elettorale, trovo persone di qualsiasi età, di qualsiasi genere, di qualsiasi mestiere che sono accomunate da un'unica cosa, la voglia di cambiare. Ora, io penso che se vogliamo cambiare in un certo qual modo dobbiamo anche cambiare le facce, ma più che altro le teste delle persone che dovrebbero rappresentarci in Consiglio Comunale. Io ho fatto, come dicevi tu Rossella, circa 13 anni di militanza politica, ho fatto 13 anni in cui mi sono impegnato completamente gratis, sperando di costruire una città migliore. Adesso ho deciso di mettermi a disposizione del mio partito per una candidatura al Consiglio Comunale e penso di, sia l'età che è comunque abbastanza giovane, essendo appena 28 anni, nel senso che lui ho appena fatto, ma anche comunque cerco di portare un minimo di esperienza politica che può essere utile per la soluzione dei problemi e anche pratica, perché poi è chiaro che il Consiglio Comunale non è un'esperienza in cui serve chissà quale preparazione, però è chiaro che aver affrontato tanti problemi in tanti anni, essere stato presente in tutte le battaglie di tutto il nostro partito, comunque mi porta ad avere anche un minimo di esperienza e di conoscenza dei fatti che secondo me possono essere un buon bagaglio che mi porti al Consiglio Comunale. Adesso siamo chiaramente in un periodo economico in cui la congettura e tutta la crisi economica ci porta e porta tutte le organizzazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e anche gli enti locali a lavorare per la difesa dell'esistente, che già è comunque una cosa difficile, che già è comunque una cosa complicata a difendere i posti di lavoro che già ci sono, però ragionare in questo modo senza dare la possibilità ai ragazzi di entrarci dentro e dentro il mondo del lavoro, questo porta ad ammazzare un'intera generazione, cioè noi siamo una generazione in cui neanche ci passa per la testa la possibilità di un matrimonio, di un mutuo, di una casa, di fare figli, perché chiaramente non avendo tu un minimo di sicurezza da un punto di vista lavorativo, tutta la tua vita diventa precaria, non solo il mondo lavorativo, ma anche i tuoi rapporti personali, i tuoi rapporti affettivi diventano sempre qualcosa di precario. Ora, riguardo i giovani ci sarebbero tante possibilità e tante cose che si possono realizzare. Io invito gli ascoltatori a diffidare sempre da chi propone e da chi promette i fantomatici posti di lavoro alla Berlusconi, perché ci vuole anche un minimo di risorse economiche poi per realizzare tante di quelle promesse. Io porto ad esempio un paio di idee che ho e sono completamente a costo zero. Una idea che abbiamo elaborato insieme agli altri ragazzi, insieme ai giovani democratici, anche sull'esperienza di altri comuni siciliani e italiani, è quella del co-working. Il co-working, come si realizza in pratica? La parola sembra difficile, ma nella pratica è semplicissimo. Il comune ha un numero enorme di immobili di proprietà del comune. Il comune potrebbe mettere a disposizione di giovani laureati, giovani diplomati, persone che so, il geometra, l'architetto, il ragioniere, il giovane avvocato, che per aprirsi un proprio studio dovrebbero spendere i soldi per l'affitto, per la segretaria, per il telefono, per la luce, per il gas. Potremmo pensare dalle botteghe di via del mercato. Dalle botteghe di via del mercato, ma tante altre cose. Per non parlare poi di tutti gli immobili in via Verardo. Esatto. Cioè prendere questi immobili che al momento sono chiusi e sono inutilizzati, fare un apposito regolamento in cui ogni persona chiede di poter usufruire di questo tipo di immobile. E io che so che c'è un appartamento con 5 stanze, queste 5 stanze vengono affidate a questi 5 professionisti, a questi 5 ragazzi, che pagano una segretaria diviso 5, la luce diviso 5, il gas diviso 5 e non pagano l'affitto. In questo modo possono iniziare delle nuove attività abbattendo completamente i costi. E su questo il comune non avrebbe nessuna spesa, perché comunque già questi immobili che metterebbe a disposizione già ce li ha, anzi verrebbero utilizzati. Un'altra idea per esempio è quella, perché noi quindi abbiamo l'esigenza di far creare delle imprese, ma anche un punto fondamentale per noi del Partito Democratico è quello della valorizzazione del centro storico. Dobbiamo creare un sistema di incentivi che porti la gente ad aprire una propria impresa, che parlo di un bar, di una pizzeria, di un pub, di una panineria, ma anche di qualsiasi negozio. Studi, studi professionali e tutto ciò nel centro storico. Come fare a fare questo? Se io comune dico al singolo cittadino che vuole aprire un'impresa nel centro storico, e gli dico, se tu l'apri nel centro storico per un anno, due anni, cinque anni, non ti faccio pagare l'occupazione del suolo pubblico se vuoi mettere i tavolini, non ti faccio pagare le tasse comunali con le pezze dell'immondizia, questo o altro, se tu le vuoi fare nel centro storico. In più si potrebbe intervenire anche sull'Imu, sui proprietari di questi immobili, perché si potrebbe dire al proprietario di un immobile, sito nel centro storico, se tu lo affitti, di Imu paghi una determinata cifra, se tu non lo affitti, io ti faccio pagare di più. Questo che cosa porta? Porta che il proprietario, innanzitutto, ha l'interesse ad abbassare il prezzo del canone d'affitto per affittarselo e poi lo porta anche ad essere in regola e a dichiarare con contratto l'affitto e quindi usufruire di questo sgravio. Questa cosa al comune che cosa costa? Non costa assolutamente nulla, perché sono mancati ingressi, mancati introiti da parte di tasse, ma su imprese che adesso non esistono. Quindi non è che tu ti vai a privare di una somma di un'impresa che già esiste, sono delle imprese nuove. Io, comune, scelgo di non avere questi soldi per un anno, per due anni, per cinque anni, poi bisogna capire anche quanto, però così ottengo due cose, che chi apre e chi fa impresa, non solo l'imprenditore che si scommette, ma poi prende anche il barista, prende anche il pizzaiolo, prende anche la collaboratrice e crea occupazione specialmente nell'ambito giovanile. E in più ho un centro storico in cui la gente ha anche un incentivo ad andare, perché sì, noi abbiamo da un punto di vista architettonico un centro storico bellissimo, con una via Roma appena rifatta che è bellissima, però dobbiamo dare ai cittadini un motivo per andarci in via Roma. E il motivo per andarci può essere appunto andare a mangiare una pizza, andare a comprare una cosa nei negozi che già ci sono, ma una volta, ricordiamo tutti, ce n'erano molti di più, perché era sempre più facile. E anche qui il comune che deve fare da regia insieme a tutti i privati, perché ci sono dei privati che sono disposti anche a prendere 50 euro al mese ed investirli per animazioni, per creare attrattive, si possono pensare che in via Roma si potrebbero pagare due animatori che si tengono i bambini e li fanno giocare, i genitori possono girare i negozi, ci si possono fare tante cose, però serve una cabina di regia che coordini tutte queste cose, anche con l'aiuto dei privati, e i privati, parlando con diversi loro che già lo stanno facendo, perché ci sono diversi negozi della Roma, per esempio, che si stanno già organizzando fra di loro per fare spettacolo e animazione, sfruttare questa disponibilità da parte dei privati, però è chiaro che serve il comune che intanto dia autorizzazioni in maniera più veloce, che non gli devono fare passare il piacere di fare queste cose, ma che faccia da cabina di regia, appunto per gestire meglio tutto questo. Noi viviamo nella scheda elettorale, i partiti quelli classici sono solo il Partito Democratico, l'Udc e il Popolo delle Libertà. Di centro-sinistra l'unico partito presente nella scheda elettorale è il Partito Democratico, ed è tra l'altro l'unico partito in tutta la città che ha una sede stabile per 365 giorni l'anno e per 5 anni. Noi siamo in via Roma, tutti spesso passando vedono le nostre bandiere. Il Partito Democratico c'è e c'è sempre. Tutte le altre sono delle liste civiche in cui nella stragrande maggioranza dei casi hanno scoperto il bene comune, il bene della propria città da circa un mese a questa parte. Ora, ben vengano le persone che si impegnano e che vogliono migliorare la propria città, però noi abbiamo dimostrato di occuparcene già da tanto tempo, ce ne siamo occupati anche senza essere consiglieri comunali per tanti anni e adesso chiediamo ai cittadini di darci la possibilità di poterle cambiare dall'interno delle istituzioni. Io sono candidato col Partito Democratico, sostengo lealmente il candidato sindaco della nostra coalizione che è Giovanni Cosentini, con l'alleanza che in questo momento ha come Presidente della Regione il Presidente Crocetta, PD, UDC e Megafono e per questo vogliamo creare una città diversa, vogliamo creare una città che sia progressista con questa alleanza fra progressisti e moderati e vogliamo mettere a disposizione le nostre intelligenze, i nostri progetti, ma all'interno della maggioranza. Fare opposizione è sicuramente molto più semplice, ti metti dietro un computer, scrivi un comunicato stampa e si è finito lì. amministrare è più complicato perché poi lì devi dare veramente le risposte ai cittadini e noi vogliamo occuparci di questo perché la politica non è solo occupare un posto, ma è risolvere i problemi della gente e se vuoi risolvere i problemi della gente lo devi fare con una proposta che abbia la possibilità di camminare.